Su a Sant'Ital Dalai Lama è cittadino onorario di Cerignale, il borgo dell'Appennino che oggi si è trasformato in un piccolo Tibet, tra il verde che ha resistito a tutte le battaglie dei più anziani perché il piccolo paese, tra i più piccoli dell'intera regione, non si è dimenticato. Il comune ha ricordato il valore della non violenza e dell'aiuto agli altri, a chiunque abbia bisogno. Ci sembrava doveroso nel programma estivo organizzare questa giornata dove si parte dal Tibet perché lì sono i diritti di un popolo negato, sino ai diritti di ognuno di noi e tanto più di chi è in difficoltà. La montagna senza i diritti e senza le pari opportunità sarebbe ormai abbandonata. Noi rivendichiamo invece anche con questo messaggio la volontà di rimanere su questi monti, di organizzare cose, di fare cose e i diritti e le pari opportunità di servizi e di altre cose si devono essere garantiti. Lei riceverà la cittadinanza onoraria per conto del Dalai Lama. Qual è il significato per voi di questo gesto? Il popolo tibetano non viene dimenticato? Assolutamente no. Questa è davvero una scelta di campo, è una scelta che vuole indicare come questa gente, questo comune di Cerignale, vuole scegliere la non violenza, vuole scegliere la giustizia, vuole scegliere il dialogo contro l'oppressione, vuole indicare che c'è una strada per vivere bene, insieme e felici nell'intero pianeta. È un sabato dei diritti, quello celebrato dal sindaco Massimo Castelli insieme ai rappresentanti dei monaci tibetani e di chiunque non abbia mai lasciato soli gli ultimi e la montagna, tanto tenace quanto abbandonata. Per questo la cittadinanza onoraria è stata consegnata dal primo cittadino, non solo al Dalai Lama, ma anche all'ex presidente della Fondazione di Piacenza Evigevano, Giacomo Marazzi. Io auguro che continui anche, almeno per quanto riguarda questo settore specifico, che continui una strada che abbiamo intrapreso prima, che è quella di cercare di aiutare non solo la città, ovviamente, ma di aiutare la montagna è la parte più estrema della provincia di Piacenza, che è quella che ha bisogno, perché è poco pensabile esradicare anziani da zone di montagna e per portarle poi in città, quindi che continuino a fare qualcosa, ma cosa che faranno certamente, non ho dubbi. Due riconoscimenti dedicati agli innamorati dell'Alta Val Trebbia, in onore della scuola della montagna, dove Dio sembra parlare più forte, come diceva sempre Don Andrea Gallo. Al prete scomparso nel maggio scorso a Genova, infatti, vicino alle storiche battaglie dei cittadini dell'Alta Valle Piacentina, è stata dedicata la parte finale della giornata di oggi a Piano dei Mulini. Io lo ricordo molto, spesso, che raccontava quando veniva a casa tutte queste sue avventure, perché lui le raccontava proprio con entusiasmo, ecco, di questi incontri anche in paesi come questo, che può essere un paesino insieme in mezzo ai monti, ma dove trovava anche molta allegria e molta voglia anche di avere ancora più voglia di intraprendere le sue battaglie. Qual è il più grande insegnamento che Don Andrea ti ha lasciato come amico? Non ci è riuscito pienamente, comunque l'umiltà.